ciao a tutti voi benvenuti adesso cantiamo una canzone insieme ciao a tutti voi benvenuti adesso cantiamo una canzone insieme ciao 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 buongiorno bimbi e buongiorno tartarughetta e allora è arrivato un nuovo giorno nella settimana e quindi facciamo il calendario dimmi tartarughetta che giorno è oggi chissà che cosa starà prendendo oggi è giovedì e allora prendiamo giovedì con la sua pinzetta e la mettiamo brava aiuta tartarughetta opla opla è caduto ok e poi chi mi sa dire invece in quale mese siamo siamo nel mese di marzo tartarughetta proprio sei preparatissima promossa siamo nel mese di marzo e tra poco dobbiamo salutare l'inverno per fare spazio e la signora primavera e allora prendiamo il mese di marzo e lo mettiamo qui andiamo avanti andiamo avanti e vediamo che tempo fa oggi tartarughetta guarda su oggi c'è il sole bimbi e allora prendiamo il sole e lo attacchiamo qui vedete che bello splendente giallo come la felicità ma la facciamo una faccina felice 1 2 3 eppure oggi nel cielo ci sono anche delle nuvolette poche poche però ci sono e allora prendiamo questa nuvoletta e la mettiamo qui ok perfetto blu guardate la nuvoletta blu blu come la tristezza e poi ma tartarughetta ma tu come ti senti un po oggi oh mamma mia è sorpresa e poi come ti senti oggi arrabbiata facciamo tutti la faccina arrabbiata 1 2 3 e va bene tartarughetta facciamo tutti insieme nel respiro della calma 1 2 3 ed è così che cominciamo un nuovo giorno ciao bimbi a domani ciao